10 settembre 2003. Anna Lind, ministro degli esteri svedese, viene pugnalata in un centro commerciale da Mihailo Mihailovic, cittadino svedese di origine serba. Muore il giorno seguente all'ospedale di Solna. Anna Lind non aveva scorta. Nel 1984 è la prima donna a distinguersi nella lotta contro la corsa al riarmo e nelle grandi questioni internazionali, come quella palestinese, del Sudafrica, del Nicaragua e del Vietnam. Dal 1994 al 1998 ricopre la carica di ministro dell'ambiente per essere poi nominato ministro degli esteri. Raggiunge l'apice della sua carriera politica nel 2001 con la nomina presidente del Consiglio d'Europa.